Roberto Valerio e Paolo Troiano, giocatori della vecchia Guardia Nocciano, oggi una vittoria possiamo dire sul campo perché noi ci siamo, 3-0 contro l'Amatori Foro in attesa del comunicato in settimana ma ovviamente il risultato sarà questo, sono comunque tre punti pesantissimi in una lotta salvezza nella massima serie che non è stata mai guerrita come quest'anno. Sì sicuramente, quest'anno è molto più alto il livello rispetto agli altri anni e questi tre punti non ci possono fare altro del bene che dopo la brutta sconfitta subita lunedì ci dispiace non giocare la partita però ci fanno soltanto del bene. Parlando col mister Federico Cerasa, poc'anzi ha detto che lunedì anche voi eravate in piena emergenza però avete comunque onorato l'impegno con 11 elementi all'interno del rettangolo di gioco rimediando otto reti alla fine però la sconfitta o 1-0 o 8-2 rimane tale. Certo, venire oggi pomeriggio qui e non giocare una partita di calcio che dovrebbe essere il corramento del divertimento settimanale un po' dispiace. Esatto, esatto. Dopo la brutta sconfitta rimediata lunedì oggi sarebbe stata un po' difficile per noi ripartire sotto il punto di vista del morale però saremmo scesi comunque in campo agguerriti sicuramente sotto ogni punto di vista e ti ripeto mi dispiace non averla potuta giocare però non siamo che contenti perché abbiamo preso i tre punti nel modo più facile possibile. Paolo Troiano, sempre giocatore della vecchia verde a Nocciano adesso prima di tornare a prepararvi per la sagra che il 6 e 7 dicembre si svolgerà qui a Nocciano il mister Cerasa però non fa sconti, non si è giocato quindi il campo si sfrutta per l'allenamento quindi ripartire da questa vittoria. Un'ora di allenamento il mister non ci fa sconti approfittiamo di questa gentile disponibilità della Wisp per invitare tutte le persone che vogliono o vorranno questo 6 e 7 dicembre a Nocciano finirci a trovare, Borgo Divino, una sagra fatta all'interno del paese dove tutta la squadra, e parliamo di 24 elementi, ci daremmo da fare per divertirci tutti insieme. Grazie, in bocca al lupo, sia per il campionato e sia per questa venda. Crevi, speriamo bene, giusto amici? Grazie.